Mister Giovanni Iacono, vittoria doveva essere, vittoria è stata, però è stata dura, più dura del previsto, forse bisognava maggiore concretezza a partire già dai primi minuti. La squadra però ci ha creduto sempre e alla fine è arrivato questo gol. È una vittoria importante perché riprende il cammino della Mazzarese. Riprendiamo il cammino soltanto perché ci fa entusiasmo, le vittorie portano entusiasmo, portano allegria. I ragazzi hanno lottato, hanno meritato e il calcio è questo. Quando pensavamo che non potevamo fare più gol, abbiamo fatto un gol bellissimo con un tiro di Elton e di conseguenza è venuta la nostra vittoria alla fine. Ecco, però questa è una vittoria che è stata, insomma, sì costruita. La Mazzarese attraverso soprattutto molti giovani ha dimostrato un gioco fluido, ha messo in difficoltà gli avversari. Ma ecco, tu hai dato delle istruzioni, hai cambiato pure il modulo nel corso del secondo tempo per dare ancora più propensione offensiva. Lo dovevo fare, il pareggio non mi serviva. Dovevo rischiare, ho messo dentro un altro attaccante, ho giocato con un 4-2-4, alla fine ci ha premiato. E sono contento perché i rischi vanno corsi, si devono fare e ti può risultare che hai fatto una cosa giusta, come alla fine se perdi magari sei criticato. L'importante è che noi ci abbiamo lavorato durante la settimana con diversi moduli. Certo, se facciamo quello già al primo minuto la gara cambia, cambia tutto, siamo ancora freschi, giochiamo in contropiede, cambia tutto. Però alla fine devo dire, un bravo ai ragazzi, dobbiamo crederci. Sappiamo che per ora siamo in difficoltà come organico, la società si sta muovendo, ci siamo mossi. Credo che già martedì ci completiamo e quindi inizio un nuovo percorso, anche con i giocatori che verranno, che io conosco già dell'anno passato. Quindi cerchiamo di chiudere questa rosa e poterci divertire. E quello che ci viene poi ci prendiamo, perché eravamo veramente oggi estremizziti e avevamo anche gente fortunata che sono scese in campo. Però devo solo raggiare i ragazzi, devo dire solo bravi e grazie di quello che hanno fatto.